Pachi, famosissima canzone proprio per questo L'unica cosa da dire è che questa associazione è stata creata da Mario Riso Fondatore di Rock TV, batterista, storico E mi fermo qui perché non ci abbiamo più tempo E basta La mettiamo prima di finire, prima dei saluti finali Io volevo mettere una canzoncina un po' così allegra Ho paura La mettiamo un pochettino e tra uno sbalzo e un altro la canterà anche Violetta Non credo, non credo Sì, sì, Violetta la canterà prima dei saluti finali Ragazzi, Girls Just Want To Have Fun di Cyndi Lauper Ciao! 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 Grazie a tutti 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 Ciao! Grazie a tutti 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 Buonasera Grazie a tutti 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 Grazie a tutti